buongiorno a tutti allora proseguiamo con le bollettine e scheline del gigione per quanto riguarda la premier league ma prima come sempre vi ricordo lunedì sera perché qualcuno mi ha detto ma non ce l'hai detto inizio il venerdì ad avvisarvi che lunedì sera salvo problemi tecnici di trasmissione vado in diretta dalle 21 e 30 barra 22 fino a tarda serata anzi a tarda nottata e quindi lunedì sera vi rinnovo l'appuntamento che questa settimana quella che sta finendo abbiamo dovuto fare al martedì per problemi tecnici di trasmissione di audio per intenderci detto questo scusate andiamo a vedere le partite della premier che si disputeranno tra sabato e lunedì abbiamo anche il monday night loro non fanno il wednesday il anzi no il friday night ma non il monday night quindi si parte con everton chelsea x2 bottom of liverpool 2 tottenham barley 1 world for crystal palace partita da tripla 1 2 manchester city manchester united il manchester il derby di manchester che è scontatissimo perché il manchester è stra favorito neanche inter milan è così favorito neanche juventus torino sono così favorite quindi uno poi partite di domenica new castor so tento un'altra partita di grande libidine da tripla 1 2 norwich sheffield wednesday x2 aston villa leicester 2 breton wolverenton x2 infine partita del monday night west end arsenal ero tentato a mettere un due ma facciamo x2 però ci può stare anche il due vediamo alla schedina alternativa everton chelsea over due e mezzo bottom of liverpool over due e mezzo tottenham barley over due e mezzo world christmas palace over uno e mezzo manchester city manchester united gol perché per me lo united un gollettino al city glielo fa poi ne beccherà una caterva ma un gollettino al city glielo riesce a fare new castor so tento 9 per uno e mezzo darby sheffield wednesday gol aston villa leicester over due e mezzo breton wolverenton mi arrischio l'over uno e mezzo magari cutrone segnano all'ultimo minuto e infine west end arsenal over due e mezzo veniamo ahimè alle schedine molto interessanti anzi alle bollettine molto interessanti perché scelto delle partite che secondo me potrebbero regalare potrebbero usiamo sempre il condizionale che è meglio everton chelsea 2 tottenham barley 1 aston villa leicester 2 west e marse dal 2 con 5 euro 48 euro 89 poi schedina altre bollettine alternativa everton chelsea 2 tottenham barley 1 aston villa leicester is 2 e west end arsenal is 2 con 5 euro 13 65 siccome so che molti mi dicono sono pochi eccetera eccetera si potrebbe provare la fissa su aston villa leicester 2 quindi fare due doppie e due fisse e si andrebbero a vincere 20 euro e 47 questo per i più coraggiosi terza bollettina abbastanza libidinosa everton chelsea is 2 più over tottenham barley 1 più over aston villa leicester is 2 più over e west end arsenal is 2 più over con 5 euro 25 euro 27 quindi 5 volte la posta non è male gli over ci stanno tutti a pizzerlo come direbbe qualcuno anche perché sono over 1 e mezzo quindi non è che sono eccessivi e direi che è una bollettina che ci può stare poi o tutto può accadere quarta bollettina everton chelsea gol casa tottenham barley gol ospite aston villa leicester gol ospite mi sconquifera sempre perché lo prendo spesso quinta bollettina everton chelsea gol più over tottenham barley gol più over aston villa leicester gol più over e western arsenal gol più over con 5 euro 59 euro e 0 5 quindi tenendo conto che tutti i gol più over sono favoriti è una bollettina che potrebbe fare libidine in ogni caso estrapolate come vi dico sempre estrapolate una partita che vi piace vi fate una col gol più over una col gol casa uno con la ospite una con la doppia e l'over e vi fate la schedina può essere un'idea sesta bollettina everton chelsea due più gol più over tottenham barley 2 più 1 più gol più over aston villa leicester due più gol più over e west and arsenal due più gol più over con due euro se ne vincono 185,20 che è un bel prendere e ci può stare con 5 euro se ne vincerebbero 463,05 detto questo mi stop un attimo che vi consiglio anche il gol visto che gol più over son favoriti fare un pensierino al gol non sarebbe una cattiva idea vado a controllare le quote bene 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 allora l'opzione gol per queste quattro partite appunto everton chelsea tottenham barley aston villa leicester del west and arsenal se giocate il gol con 5 euro ne portate a casa 30,32 e diciamo che a parte tottenham barley che le quote gol do gol sono molto vicine le altre ci stanno tutte a pisello come si suol dire detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video che riguarderà il campionato italiano vi metterò anche i marcatori ciao